Mister, la partita di campionato si era conclusa con una fermana che ha pareggiato in difficoltà. Questa vittoria invece comunque sembra meritata perché la fermana sta più spietata. C'è da essere soddisfatti, ma bisogna, logicamente, accogliare la retta perché è una partita importantissima. Abbiamo palleggiato bene, siamo riusciti quasi sempre a giocarla e non buttarla. Abbiamo trovato spazio, abbiamo avuto anche tante occasioni, quindi è stata una partita ben positiva.